Ciao ragazzi e ciao ragazze, eccoci nel nuovo video tag questo è il video tag se fossimo uomo questo video tag non so se esiste per ora non l'ho vista da nessuna parte e l'abbiamo pensato, ideato io e Matilde un bacione grossissimo a Matilde e un abbraccio fortissimo perché ormai mi sono legata tantissimo a lei anche se non la conosco ancora di persone quindi la voglio bene tantissimo e non vedevo l'ora di girare questo video tag anche se è stato un periodo frenetico a volontà quindi vediamo se riusciamo a girarlo in santa pace senza che suoni il telefono o bussimo alla porta appunto come dicevo questo è il video tag intitolato se fossi un uomo quindi cosa farei se fossi un uomo elenchiamo un paio di cose appunto così giusto per divertirci ecco perché è nato tutto per gioco e da che era un gioco a che abbiamo detto vabbè giriamo un video 1. se fossi un uomo girerei tutto il giorno a dorso nudo per casa d'estate perché diciamoci noi ci possiamo mettere anche un top possiamo rimanere anche reggisero ma non sarà mai la stessa cosa a girare a dorso nudo 2. se fossi un uomo non mi farei la geretta alle gambe cioè cosa c'è di meglio di rimanere con le gambe pelose e nessuno ti dirà niente perché sei un uomo 3. se fossi un uomo 3. se fossi un uomo terza cosa premessa io sono velocissima a prepararmi a truccarmi a farmi la doccia a shampoo e tutto ciò che una donna ci mette ore io non ci metto ore quindi mi reputo abbastanza maschio comunque uno ci mette più tempo perché magari i capelli sono lunghi perché ci dobbiamo truccare quindi se fossi un uomo come terza cosa vorrei provare l'ebbrezza di essere pronta in pochissimo tempo cioè prepararmi farmi la doccia e uscire cioè dopo la doccia uscire direttamente beh vorrei provare questa sensazione 4. se fossi un uomo voglio fare la pipì all'impiedi 5. riguardanti sempre la pipì vorrei farlo nei bagni pubblici perché io da donna odio i bagni pubblici quindi io sarei felicissima di provare a cioè a fare la pipì come tutti gli uomini si possono fermare dietro un albero all'autogrill dove vogliono non hanno di questi problemi 6. se fossi un uomo vorrei proprio vedere come funziona il loro cervello perché dicono che noi siamo complicate ma i complicati cari ragazzi siete voi siete voi complicati quindi vorrei provare il loro ragionamento 7. se fossi un uomo vorrei tornare a casa e cucinare alla mia donna cioè sì perché cioè pensa sempre a tutta la donna allora una cosa l'uomo la può fare cucinare perché ci sono tanti maschietti che sanno cucinare quindi io vorrei essere un uomo che cucina per la mia donna vabbè vorrei essere un uomo e se fossi un uomo cucinare per la mia donna vabbè avete capito 8. se fossi un uomo vorrei tagliarmi i capelli a zero e non avere il problema di legarli di scioglierli di pettinarli di arricciarli di tenerli sciolti e dire mannaggia perché ho i capelli così lunghi e non andare dal parchiere e dire oddio perché li ho tagliati cioè no a zero via tagliamoli a zero nona cosa se fossi un uomo vorrei provare a uscire come fanno loro tranquillamente da soli passeggiare soli e cercare andare a cercare amici cioè io da ragazza o perlomeno magari ci sono ragazze che lo fanno io non ci riesco cioè io non è che se non ho nessuno con cui scendere scendo lo stesso e vabbè scendo vediamo chi incontro cioè io lo sento dire tante volte ai ragazzi vabbè io esco poi chi incontro incontro io no o scendo vabbè magari apposta da sola farò una passeggiata lungomare così una camminata veloce e tutto però poi torno a casa oppure scendo da sola perché devo fare la spesa tutte queste cose qui se no scendo con un'amica un amico cioè in gruppo ma così no invece i ragazzi io li sento dire tante volte vabbè scendo poi incontro a quello poi incontro a questo poi fermo al bar cioè dove vai decima e ultima cosa se fossi un uomo aprire l'armadio prendere la prima cosa che mi capita sotto mano e uscirei senza importarmene se mi sta stretto se mi sta largo se mi segno ai fianchi se si vede troppo il seno se non si vede chi se ne frega metto un pantalone metto una camicia così e scendo anche io anche io voglio farlo e quindi diciamo inclusa in questa decima cosa ma un po' in tutte se fossi un uomo non mi farei tutti questi film mentali tutti questi complessi e poi soprattutto ragazzi parliamo di quelli cioè niente ceretto niente niente di niente e niente ragazzi io mi sono divertita tantissimo al gioco questo video anche perché magari ora lo vedrete montato normale ma io nel frattempo cioè da qui vedo che ho girato un 20 minuti penso che il video sarà 10 poi montato perché sono stata tantissime volte o a ridere quindi mi fermavo e ridevo oppure dicevo oddio ma io volevo fare tante cose se fossi stata uomo però poi faccio non me ne viene in mente una quindi io spero che vi divertete anche voi a vedere questo video vi mando un bacione grossissimo a voi un bacione grossissimo a Matilde e noi ci vediamo al prossimo video ciao